Il vostro applauso, ecco, sentiamo questo momento, un applauso di Catania, il governo italiano guarda con grande attenzione alla nostra città perché sa quanto questa città sia importante nello scacchiere politico della nostra nazione meravigliosa e Catania ha sempre dato delle risposte importanti. Le bandiere, vi chiedo di abbassare le bandiere, grazie, diamo l'opportunità a tutti di fare gli scassi, grazie, grazie soprattutto a chi è in prima fila. Va bene così, c'è il momento del selfie, adesso magari le bandiere le possiamo mostrare invece. Con l'applauso di Piazza dell'Università per una Catania che cambia, per una Catania che deve scrivere pagine nuove nel suo futuro. Grazie all'avvocato Enrico Trentino, grazie veramente.